Ciao a tutti, io sono Matteo ed ho intervistato per voi due rappresentanti del comitato promotore Peppino Impastato. Questo comitato, formato da forze politiche, associazioni e semplici cittadini di Bazzano, ha lavorato negli scorsi mesi per l'intitolazione del nuovo palazzetto dello sport di Bazzano a Peppino Impastato. Ho chiesto a Stefano Crociani, segretario della sezione Ampi di Bazzano, di ricordarci la storia di questo ragazzo siciliano. Peppino Impastato è un ragazzo che è diventato un personaggio appunto perché la sua memoria è giunta fino a noi, in quanto è stato ammazzato il 9 maggio 1978 dalla mafia a Cinesi, Palermo, il luogo in cui lui viveva. Era un ragazzo come tanti, non era un eroe, era un ragazzo vissuto fra l'altro in una famiglia sicuramente vicina e collusa al potere mafioso. Questo ragazzo però aveva maturato in sé una grande forza di ribellione rispetto a quello che era e purtroppo in buona parte ancora è il potere e l'occupazione mafiosa dei paesi e delle città siciliane e non solo. Lui voleva un mondo migliore, un mondo in cui ci fosse giustizia, dove ci fosse il lavoro buono, dove ci fossero opportunità per tutti. Il sistema cliente rare mafioso invece era all'antitesi di questo desiderio di una società più giusta e per questo lui si ribellò e con i suoi amici fondò Radio Out, si impegnò politicamente e denunciò pubblicamente la sua famiglia e il sistema mafioso che governava quei paesi e quelle città. Pagò con la vita questo suo impegno. Altro importante componente del comitato promotore è il segretario di rifondazione comunista di Bazzano, Simone Rimondi. A lui ho chiesto da cosa è nata l'idea di intitolare la palestra Peppino Impastato. La cosa più difficile è stata convincere alcuni amministratori che dedicare qualcosa che non fosse a un bazanese o comunque un personaggio molto più noto perché Peppino purtroppo è conosciuto, non è conosciutissimo come magari lo può essere Borsellino o come possono essere altri personaggi uccisi dalla mafia e è nata appunto dalla volontà di dedicare a qualcuno anche di meno conosciuto ma di molto attivo nella lotta alla mafia un ambiente sportivo frequentato tantissimo anche dai giovani soprattutto dai giovani dedicato perché a Bazzano non c'è nulla che è dedicato ai caduti di mafia, chi è morto per la propria quotidiana lotta alla mafia e allora da qui è nata appunto questa idea. Ancora con Stefano Crociani. Perché voi come associazione nazionale dei partigiani avete sentito il bisogno di prendere parte a questo comitato? L'AMPI è un'associazione oggi ancora fortemente impegnata per vedere realizzati i valori che sono stati sanciti dalla nostra Costituzione, valori, principi, conquiste della lotta di liberazione. Noi pensiamo che la resistenza sia un valore per tutti nella nostra Repubblica, oggi c'è un fronte che è il fronte della nuova resistenza e attualmente per noi continuare a fare resistenza vuol dire essere impegnati come ANPI vicino a tutti coloro che lottano contro le mafie. È stato quindi naturale per noi dell'ANPI ritrovarci con altri amici a Bazzano a volere testimoniare la nostra vicinanza con coloro che appunto sono in prima linea nella lotta alla mafia. Ho poi chiesto a Simone Rimondi una riflessione sul significato di ricordare le vittime di mafia anche al di fuori delle realtà storicamente afflitte da questo problema. Ok, sì no, effettivamente la distanza geografica è tante, però dicevo vale la pena ricordare che la mafia non sta di casa solo a Palermo o a Cinesi, purtroppo la mafia è radicata e ramificata in tutta Italia e quindi io credo che sì, la distanza geografica tra Bazzano e Cinesi non è così tanta, però la distanza tra i problemi di Cinesi e i problemi che possono esserci anche a Bazzano non è così distante, insomma molto spesso sono anche gli atteggiamenti ad essere mafiosi questo non vuol dire che a Bazzano c'è la mafia, però i problemi di mafia non stanno di casa purtroppo solo a Palermo e si vede un po' anche dai nostri telegiornali, insomma spesso anche qua attecchito alla mafia perché la mafia è un modo di vivere, un modo di essere, un modo di pensare che non può essere confinato purtroppo solo a Palermo. Appuntamento allora sabato 10 maggio alle 17.30 per la cerimonia di intitolazione della palestra di Bazzano a Peppino Impastato e la sera non mancate il concerto della Casa del Vento in piazza. Ci vediamo là! Grazie a tutti!